Alle nostre spalle il Narodnidom, l'edificio progettato da Max Fabiani che è un po' il simbolo della visita a congiunta. Dopodomani dei presidenti della Repubblica Italiana Mattarella e Slovena Pacori in occasione di quella che viene definita restituzione appunto dell'edificio alla comunità slovena. Un appuntamento che Tele4 seguirà in diretta anche con collegamenti da studio a partire dalle ore 10. Intanto domani 300 persone fra poliziotti, carabinieri, finanzieri, specialisti della prevenzione attentati e reparti mobili per l'ordine pubblico saranno impegnati per bonificare i luoghi che saranno interessati dalla visita a congiunta appunto di Mattarella e Pacor. Per quanto concerne il programma, fra l'altro rapidissimo, non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi. Mattarella tenderà a Pacora o Piccina, alla caserma del reggimento Piemonte Cavalleria, quindi a bordo di Pulmini, questo per evitare i consueti cortei di macchine blu, le delegazioni si recheranno prima in Foiba a Basovizza e poi sempre a Basovizza, poco distante fra l'altro al monumento che ricorda la fucilazione degli antifascisti del Tigre. Quindi in prefettura, dove ci sarà il conferimento della doppia onoreficenza sia italiana che slovena allo scrittore Boris Pacor e dove sempre in prefettura ci sarà la firma, diciamo così, del protocollo Narodni Dom. Lo firmeranno per l'Italia i ministri Lamorgese, il ministro dell'interno e il ministro Manfredi che è il ministro dell'università. Quindi appunto una sosta dei due presidenti proprio in via Filzi, poi di nuovo in prefettura per un pranzo al termine del quale Pacor rientrerà a Lubiana e Mattarella incontrerà i rappresentanti, diciamo, delle associazioni dell'Esodo. Non ci saranno impattanti restrizioni al traffico durante la visita, fatto salvo appunto la sosta al Narodni Dom, per la quale sosta sono interdetta via Filzi e verranno posizionati dei divieti di sosta in via Geppa e in via Galatti.